Con la nuova stagione ciclistica 2015 ai nastri di partenza, le società terramane MKG e Team Pro Bike si sono presentate ufficialmente nella palestra Club Interamnia di Teramo. Due società unite dalla voglia di fare e molto per il ciclismo e per gli appassionati della provincia di Teramo. Per il secondo anno consecutivo la mia società, quindi la Pro Bike Teramo e la MKG di Manager Leoni si sono presentate insieme per la nuova stagione, la stagione 2015. Veniamo da una stagione agonistica 2014 ricca di soddisfazioni. Speriamo di ripeterci nel 2015 anche grazie ai nuovi acquisti sia del mio team che del team di Max Leoni. La mia società, la SD Team Pro Bike Teramo, in questa stagione organizzerà anche degli eventi molto importanti che sono la Fondo di Villa Marini, il campionato italiano Fondo AXI e il campionato europeo Gran Fondo MTB. Quindi la mia società è impegnata a livello agonistico ma soprattutto a livello organizzativo. Quest'anno ci apprestiamo a praticare il quarto anno di attività agonistica e speriamo appunto di avere delle soddisfazioni come ne abbiamo avute nei precedenti anni anche inaspettate tra l'altro. Come diceva Alessio Maddes, per il secondo anno abbiamo unito le nostre forze in partnership e in amicizia per praticare questa sorta di gemellaggio per presentare i due team. E domenica prossima, appunto il 22, ad Al Badriatica inizieremo questa Kermesse 2015 e speriamo con un'auto in bocca al lupo a tutti. Altri appuntamenti dopo quello di domenica? Beh, ovviamente abbiamo plasmato una sorta di calendario agonistico interno e ne cito soltanto un breve percorso per fare appunto questo accenno dove tenteremo con il campionato italiano fondo di portare delle buone soddisfazioni come non ultimo la stessa maglia tricolore e perché no, al quarto anno appunto che ci apprestiamo a fare il quarto titolo consecutivo perché nei precedenti anni con atleti diversi abbiamo avuto delle inaspettate soddisfazioni come questa. Poi frequenteremo un pochino anche l'ambiente delle cosiddette chiamate ruote grasse cioè la mountain bike e non ultimo, forse per dimenticanza, ma è una cosa molto importante quest'anno ci sarà il campionato europeo mountain bike fondo, marathon organizzato proprio dal team Pro Bike per l'ente Axi qui a Teramo e quindi ci terremo molto a fare bene in casa ovviamente.